Telecontrollo e ricerca di perdite nella rete idrica, stabilizzazione della pressione e rinnovo graduale delle tubature nel territorio del comune di Arezzo. Sono le direttrici lungo le quali si sta muovendo nuove acque per migliorare l'efficienza del servizio erogato ai cittadini. Se nei primi anni 2000 il livello di perdite nella rete del comune di Arezzo era del 50%, nel 2012 si è passati al 32%. Un'operazione che ha permesso lo scorso anno di prelevare 7 milioni di litri d'acqua dall'invaso di Montedoglio, servendo tra l'altro più utenze a fronte dei 12 milioni di metri cubi della fine degli anni 90. Per raggiungere questo obiettivo il territorio comunale di Arezzo è stato così suddiviso in 12 macro distretti idraulici. In concreto si tratta di aree territoriali omogenee che permettono un maggiore e più puntuale controllo della rete che le serve. Ogni distretto viene costantemente monitorato con il telecontrollo e i dati di portata vengono inviati in tempo reale a un sistema centralizzato. Questa nuova tecnologia che ha introdotto nuove acque va nella direzione di maggior tutela del patrimonio pubblico, perché le reti sono tali e distrettualizzando la città e inserendo il telecontrollo per cui si vede zona per zona quello che è l'acqua che viene immessa, di fatto si individuano più facilmente l'esistenza dei perditi, si interviene più prontamente e quindi si riduce sia l'aspetto di costo operativo sia l'aspetto di costo ambientale, cioè quindi si risparmia risorsa. Questo ha consentito negli anni già una notevole riduzione delle perdite e avrà con l'estensione sicuramente un miglioramento nel futuro e poi lo sviluppo anche della telelettura. È un po' quel filone che ci vede impegnati su vari versanti, anche con il sistema delle aziende partecipate, di una città sempre più intelligente, cioè che applica la tecnologia a miglioramento dell'ambiente e dell'efficienza dei servizi. Con questi nuovi interventi è possibile analizzare l'evoluzione dei consumi e delle pressioni in rete e quindi individuare con rapidità e precisione le eventuali variazioni di portata, che potrebbero corrispondere o a delle perdite o a consumi anomali da parte degli utenti. Una possibilità quest'ultima che eviterà, qualora ci fosse un problema, di scoprirlo con l'arrivo di una bolletta salata. A questo controllo remoto va aggiunta anche l'azione di stabilizzazione della pressione in rete che consente di ridurre le perdite e quindi recuperare notevoli quantitativi di acqua. È poi evidente che questo puntuale controllo della rete permetterà di procedere, ove necessario, alla sostituzione delle tubature, definendo le priorità di concerto con l'amministrazione comunale nel merito del tavolo di lavoro dedicato anche a questo tema. Oggi vediamo il culmine di un sistema che è stato impiantato in dieci anni di lavoro, quindi un sistema molto complesso che ha partito dall'analisi del patrimonio, quindi della rete gestita, fino a individuare una serie di settori, quindi di zone omogenee a cui associare dei sistemi in rete di telecontrollo, fino a poter, e qua dietro ne abbiamo un esempio, monitorare in tempo reale la portata idrica che passa nei vari settori. Questo è molto importante perché ci dà in tempo reale la possibilità di capire dove ci sono anomalie, quindi perdite in rete, e poter poi andare in campo in maniera molto molto tempestiva. Tutto questo ha portato, fra l'altro, sia a un risparmio in termini di tempi di intervento, ma anche e soprattutto un risparmio ambientale. A me piace sempre tirare fuori questo dato che l'acqua prodotta dall'impianto di Poggio Pugulo, che serve Arezzo, nei primi anni di gestione veniva prelevato nella misura di circa 12 milioni di metri cubi l'anno. Oggi, dopo quasi 15 anni, nonostante si sia allargato il perimetro di cittadini serviti dall'acqua di Montedoglio, vengono serviti con solo 8 milioni di metri cubi, quindi vuol dire che ci sono più di 4 milioni di metri cubi di acqua che non vengono prelevati dall'impianto di Montedoglio, quindi con un risparmio ambientale importante. Insieme alle cogliutture dell'acqua, ci sono anche tanti sottoservizi che vengono, su cui si interviene. Ma operativamente noi abbiamo sempre un tavolo di confronto continuo rispetto alle manutenzioni, perché poi significa manutenzione delle reti, manutenzione stradale, viaggiano spesso di pari passo, sebbene che siano degli interventi che abbiano una programmazione comune. E questo ovviamente consente sicuramente una maggiore risparmio e coerenza negli interventi che facciamo. È inutile rifare un asfalto quando sotto c'è una fognatura o una rete che ha bisogno di risanamenti, così come quando dal punto di vista di nuove acque c'è bisogno di intervenire su delle riparazioni consistenti, bisogna ovviamente ragionare anche nell'ottica di un intervento complessivo sulla strada. Quindi spesso chiaramente le difficoltà dei bilanci di ogni ente lo rendono complessa questa cosa, ma è l'operazione assolutamente che dobbiamo fare, che stiamo cercando di fare. Sul fronte della manutenzione in quest'ottica ci può già anticipare quali saranno i prossimi step di risistemazione appunto del manto stradale con i relativi sottoservizi? Ma dunque già ne abbiamo fatti diversi, in quest'anno pur nelle difficoltà abbiamo ritagliato intorno a 800 milioni di euro per manutenzioni stradali che ovviamente dato che i comuni hanno potuto fare bilanci in ritardo si stanno completando in questi giorni, insomma, e ovviamente sono varie strade, da tratti di via Romana, di via Alessandro d'Alborro, anche nelle frazioni, ora in questo momento Marcena, Meliciano, insomma, sono vari interventi sia in città che nelle frazioni e in alcuni di questi casi appunto si è provveduto anche da parte di Nuove Acqua a sostituire interventi di risanamento della rete sottostante. Il completamento di questo complesso sistema di gestione verrà attuato con l'implementazione della telelettura. Si tratta di un ulteriore step per monitorare nel dettaglio tutti i consumi. Ogni utenza verrà controllata con un particolare contatore collegato via radio a una postazione di nuove acque. Sarà così possibile avere un bilancio giornaliero del rendimento del singolo distretto verificando la quantità di risorse in entrata e i consumi delle utenze presenti. La telelettura verrà applicata sperimentalmente nell'area della zona Giotto e della Marchionna entro il 2014 e riguarderà circa 800 utenze. Oggi vediamo la conclusione e sarà portata avanti ancora per gradi il progetto di telecontrollo su tutta la rete pubblica del Comune d'Arezzo. Poi passeremo a telecontrare fra virgolette anche i singoli punti di fornitura ai cittadini privati con un progetto pilota che sta partendo proprio in questi mesi che prevede di monitorare con dei contatori intelligenti che permettono in tempo reale di verificare il consumo del singolo cliente e che permettono quindi sia di avere una fattura a posteriori più aderente al consumo reale ma anche di avere subito la contezza di eventuali anomalie e perdite sull'impianto interno. Questo sistema che inizieremo a impiantare proprio in questi mesi andrà in regime nei primi mesi, supponiamo, del 2015 e partiremo dalla zona Fraggiotto e Marchionna che fra l'altro ha una presenza molto importante di utenze condominali perché in prospettiva questo sistema avrà anche la potenzialità di poter dare qualche risposta al tema delle utenze condominali e quindi permetterà di avere un controllo sia sull'utenza condominiale globale ma anche delle singole utenze condominali singole. Dal punto di vista economico ci saranno dei risparmi per nuove acque e per gli utenti cambierà anche qualcosa? I risparmi ci sono già stati in questo anno a livello di spese e molto semplicemente meno acqua viene persa in rete e meno acqua viene comprata dall'invaso di Montedoglio e quindi ci sono meno costi. Meno costi quindi vuol dire meno costi che vengono riversati nelle tariffe all'utenza quindi la sfida e l'impegno della società è di portare avanti sempre queste politiche di efficientamento perché nelle tariffe contenere questi costi vuol dire contenere anche la tariffa ma penso anche alle ottimizzazioni energetiche che sono state messe in campo in questi anni e non solo al risparmio idrico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!